Io sono l'imperatore Salve a tutti ragazzi, questo è un video del canale Maievin95 che vi parla a mai dire Bentornati, bentornati su Earth of Iron 4 Allora, 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 allora Io direi oggi di cominciare una serie con la mod della Prima Guerra Mondiale The Great World Usiamo praticamente l'impero russo Lo Zar praticamente Questo perché è una scelta interessante per due motivi Non ho mai giocato la Russia in nessuna, ripeto, nessuna mia campagna Né Unione Sovietica, né Russia Zarista, né proprio nulla di nulla E inoltre potrebbe essere una serie abbastanza interessante perché Comunque la Russia parte notevolmente svantaggiata Avremo il problema della ribellione comunista interna E quindi chi, se non il vostro imperatore mai dire, può reclamare il titolo di Zar di tutte le Russie Quindi entriamo subito ragazzi Allora, abbiamo qualche svantaggio Praticamente, allora, qui i vantaggi abbiamo la chiesa ortodossa che comunque ci dà unità nazionale Poi abbiamo il problema dell'umiliazione di Tsushima Che praticamente tra 1904 e 1905 c'è fu la guerra tra la Russia e il Giappone Il Giappone che aspirava a diventare potenza mondiale con l'imperatore Meiji Attaccò, attaccò appunto invece questa guerra con i russi I russi che erano convinti di stravincere Persero, persero in una battaglia navale, la battaglia di Tsushima In cui la gran parte della flotta russa, della flotta zarista Venne distrutta Questo ragazzi fu uno di quegli avvenimenti che cambiò la storia del mondo Perché fu da lì che l'impero russo cominciò a cedere Perché sebbene avesse un'economia arretrata e tutto Il suo potere, la sua potenza militare Non era mai stata messa in discussione Comunque la russa aveva una tradizione guerriera Da almeno 600-700 anni Dopo l'unificazione tra Moscovia e Novgorod eccetera Il problema ragazzi, il problema da lì La russa divenne via via sempre più debole Il disastro nella prima guerra mondiale fu orribile E quello comportò appunto l'ascesa del comunismo Se l'Unione Sovietica non fosse mai nata Molto probabilmente le sorti del mondo sarebbero cambiate Bene ragazzi, pensate no? Un avvenimento così poco conosciuto ha cambiato la storia del mondo Poi abbiamo anche dei problemi per l'arretratezza economica Vedete, noi non abbiamo una linea ferroviaria Ci da tutti questi malus Ok dai ragazzi, pian piano comunque lo sapete Che a me piace Disquisire Cazzo che termine disquisire Parlare Della storia Perché ve l'ho detto che a me I gameplay fatti solo di gameplay Annoiano Ci deve essere secondo me Un giusto equilibrio tra le parti Allora, allora, allora Prima di parlare del contesto storico del 1910 Direi di fare gli onori di casa Guardando un po' Le scelte questa volta di gameplay Allora, la tecnologia Non siamo poi così indietro Le armi siamo abbastanza avanzati Direi però di fare questa Cominciare a rinforzare un po' la nostra industria Quindi mettere quella Abbiamo addirittura 4 slot ragazzi Questa fotocamera Vabbè, questo per il momento possiamo un attimo tralasciarlo Questo delle costruzioni lo facciamo subito Poi, ingegneria Reinforce rate Research time Direi Questo che diminuisce il tempo di ricerca E successivamente Vedete, questi sono del 1914 Quindi possiamo anche aspettare Direi di fare Questo sui rinforzi Sottomarini Ricerca dei carri armati Non è male questo Non è male neanche questo 194 giorni Questo invece sono 97 Facciamo questo per il momento ragazzi Poi Industrie Vediamo quante fabbriche abbiamo Abbiamo 11 fabbriche militari Orribile Però abbiamo 38 fabbriche civili 38 fabbriche civili Quindi direi Un po' di fabbriche militari 38 fabbriche civili non sono male Però dobbiamo importare dei materiali Alluminio e basta Beh, direi Ah già ragazzi Abbiamo tante fabbriche perché esportiamo Finalmente Da tempo che non usavano Un'azione sportatrice Tipo giocar con l'Italia Germania eccetera Devi sempre Importare Roba Ah direi Che possiamo prenderla Dagli Stati Uniti E già qui si vede un po' La mia scelta di gameplay Ragazzi La Russia Per la Russia sarebbe troppo facile La campagna Se entro con gli imperi centrali E l'Austria Diventiamo un cazzo Di rullo compressore E la Francia E l'Italia La distruggiamo No ragazzi Non mi piace così Perché sarebbe troppo facile E no Mi schiererò Dalla parte Dell'Intesa O giocherò da solo Comunque ragazzi Al momento dovremmo già trovarci Nell'Intesa Sì Quindi siamo nell'Intesa Vediamo le fazioni Con la Francia Ok L'Intesa Russo Francese L'Inghilterra entrerà solo In un secondo momento Allora National Focus Possiamo fare Sforzo politico Sforzo diplomatico Organizzare L'armata imperiale Forza aerea Sforzo industriale Come sapete Mi piace sempre Organizzare l'economia Prima di pensare A tutt'altro La suddivisione La suddivisione Emessa Già Di default Non è male Abbiamo dei problemi Con I Con le navi Che dovremmo Un attimo Questo è un dreadnought Cioè abbiamo il dreadnought Nuovo Eccolo qui Li mettiamo subito A produrre Aspetta ma questo è ancora Un dreadnought Vabbè Allora lo togliamo Poi Questo è ancora un dreadnought Lo togliamo E questo è un battlecruiser Che invece va bene Direi di mettere a produrre Anche qualche convoio Che ne abbiamo solo 100 Non si sa mai Almeno Un porto Lo dedichiamo Abbiamo 2 di distruttore E 3 di Dreadnought Così mi sembra Una suddivisione adatta I sottomarini Ragazzi Non sono granché In questo periodo Abbiamo sottomarini costali Sottomarini di livello 1 Pian piano Ragazzi Li rinforzeremo Vediamo come è messa La nostra flotta Abbiamo delle flotte Di sottomarini Nel fronte Northern front Ok Poi Poi Nel Baltico Nel Baltico Cermoskaya Ma dove cazzo sarà Cermoskaya Ah in Ucraina Ok Quello ce l'abbiamo Nel Mar Nero Questa Allora queste sono Nel Mar Nero Queste nel Baltico Quindi sono qui Qui E poi abbiamo La flotta Siberiana Quindi in questa zona Noi ragazzi Dobbiamo cercare di Rinforzare al momento Quella siberiana Perché qui Penso che possiamo Anche un po' Basarci sulla marina inglese Quindi Ragazzi Noi dobbiamo affrontare Il Giappone Quindi Dove sto andando? Perché clicco cose a caso? Ecco qui Allora direi Di rinforzare la marina siberiana Eccola qui Fatto Così queste navi Andranno automaticamente In quella In quella flotta Ok Allora dai ragazzi Direi che abbiamo Pochi Navaldocchiars Io voglio avere una flotta potente Questa partita Voglio giocare tanto Sulla flotta Perché voglio affrontare Il Giappone E vendicare la battaglia Di Tsushima Quindi Vaffanculo Giapponesi Vaffanculo Allora direi 1 2 3 E 4 E qui mettiamo Un po' di porti E poi direi Per il resto Fabbriche militari Perché se no I tedeschi Non li affrontiamo Proprio per Direi di farli lontani Comunque Facciamoli lontani Dalle linee Nella zona di Mosca Ok Direi che così Mi piace Mi piace tanto Perfetto Allora Qui abbiamo tutto L'esercito Da Da organizzare Ma lo organizzeremo Via via Le risorse Le stiamo già importando Non abbiamo Vediamo di quanto Siamo sotto Siamo sotto Di ben 1300 Materiali Abbiamo già Un esercito Abbastanza vasto Quindi direi Di non reclutare Nessuno Al momento O comunque Aspettare Aspettare Facciamo andare a 1 Allora Direi Andiamo qui Vediamo i nostri Template Che schifo Dai Un template Da 12 Che schifo Ragazzi Che schifo Ragazzi Che schifo Un template Di 12 Di combat With Eh ragazzi D'altronde Questo abbiamo Però abbiamo Già ricognitori Ingegneri Quindi questa Nostra divisione Di fanteria Base Cercheremo Di portarla Almeno Almeno Dico A 20 Poi qui Vediamo 12 Sempre Dico Questa è la nostra Divisione D'elite Perché ha un po' Di artiglieria Sapete Cambiamo E mettiamo Una stella Va così Almeno La riconosciamo Subito Queste invece Sono le compagnie Siberiane Allora Per la Siberia Ci mettiamo Magari L'orso Così almeno Sappiamo Che è questo Back Vabbè La cavalleria È riconoscibile Queste invece Sono le divisioni Di guarnigione Quindi Teniamo così Almeno Le riconosciamo E sappiamo Cosa prendere Allora Tipo Le mettiamo Un po' In ordine Vediamo Se le organizzate Eh sì Vedete ragazzi Così almeno Sappiamo subito Quali sono Beh 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 Cavoli Organizzare Un fronte Del genere Ma la Romania Ci sarà nemica? Eh eh Bisogna un attimo Vedere ragazzi Bisogna un attimo Vedere Perché Magari L'Austria Riesce a portarla Dalla sua parte Se in quel caso Sarà nostra nemica Oppure no Oppure no Cavoli Eh eh Sicuramente Qualche truppa Anche lì Bisognerà metterla Direi di prendere Queste Divisioni Come sono fatte? Ah 14 Queste Le mettiamo A confine Tedesco Questa invece Tanta cavalleria Un po' Di cavalleria Gliela diamo Qui A confine Tedesco Poi Queste 13 Divisioni Sono tante Con Gli orsetti Dovrebbero essere Compagnie Siberiane Allora Quindi Queste Non le utilizziamo Al momento Diamo un po' Il resto Ragazzi Direi che Forse Sapete che a me Queste parti Non mi piacciono Molto Da farvele vedere Quindi L'organizzo Un attimo Io E ci vediamo Tra un paio Di minuti Che ragazzi Linea di massima Sto organizzando Nel frattempo Mentre Finisco Perché Alcuni di voi Si sono lamentati Che taglio troppo E in effetti Avete anche ragione Quindi magari Qualcosa vi faccio Vedere Perché se no Magari dite Non si vede Niente Allora Qui abbiamo Queste nostre Divisore Della guardia Le mettiamo Assolutamente Qui Ho organizzato Ho organizzato Tre teatri Sostanzialmente Il teatro Delle steppe In cui In un paio Di tronconi Ho circondato La Cina Perché Guardando qui Nell'albero Dei focus Abbiamo Questo tratto Di focus Che mi consente Di andare Ad interagire Direttamente Con i cinesi Soprattutto Nel momento In cui Si troveranno Nella guerra civile Quindi Possiamo magari Sfruttare la situazione Per accaparrarci Un po' di territorio E magari Occupare anche La manciuria Che ci darà Direttamente Un ottimo punto Per attaccare La Corea Che è Puppet Che è uno stato Fantoccio L'impero coreano Che è uno stato Fantoccio Dei giapponesi Tra l'altro Questi bastardi Dei giapponesi Ottennero Questo trattato Vi spiego un attimo Fregando Le autorità Coreane Cioè Gli fecero Firmare Un trattato Assolutamente Piuttosto Incomprensibile Che Nascondeva Delle clausole Particolari Che resero Di fatto La Corea Uno stato Fantoccio Giapponese Diciamo Succube Dei giapponesi I coreani Da allora Odiano Parecchio I nipponici Allora Qui abbiamo altre due divisioni Allora Ho messo Qui questo Teatro Del rullo Compressore In cui abbiamo Queste 12 Adesso al momento Che sono contro L'Austria Le 21 Nostro Fronte più forte Contro i tedeschi E successivamente Adesso ho messo invece Le nostre divisioni Queste con l'orso Ragazzi che abbiamo visto Che non sono proprio Le migliori L'abbiamo messe A confine Con i rumeni Perché non si sa mai Che decidano Di attaccare Poi Qui abbiamo Ah e poi ho fatto Anche il teatro Eredi di Bisanzio Beh ragazzi La Russia Si è sempre considerata Con San Pietroburgo La terza Roma Erede diretta Dell'imperatore Di Bisanzio Perché comunque Nel 1400 Verso la fine Di Costantinopoli La Russia Aveva grandi legami Con Con l'imperatore Romano d'Oriente E si vedeva un po' Lo Zara Tra l'altro Zara vuol dire Cesare Praticamente Quindi Fa un po' capire Qual era La grande ammirazione Ecco L'erede di Roma L'erede di Bisanzio Avrà l'obiettivo Di Attaccare L'impero ottomano Quindi lo rinforziamo Non troppo Perché sennò Poi i tedeschi Doviamo difendere Ci bene dai tedeschi Perché sono forti Sono davvero forti Allora Qui abbiamo Un altro po' Di cavalleria Che mettiamo Agli austriaci Poi 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 Direi che possiamo Cominciare Poi quello che rimane Ragazzi Lo vediamo Da qui Spero che la campagna Vi stia Intrigando Perché secondo me Può venire anche Abbastanza divertente Ah Ho finito Ho finito Le truppe di fanteria Ah no No Ne ha ancora Tantissimi Porca miseria Che esercitone Che ha la Russia Che esercitone Allora direi di prenderne Almeno Portarne A trenta Tre Quattro Cinque Oh pausa Tinky Tinky No no Allora qualcosa Che non dà niente Ecco si Poi Allora vediamo Cosa volevo fare Volevo prendere Un po' di Volevo prendere Un po' di cavalleria Che mi pare Di non averne messa Ah Cavalleria Secondo me È abbastanza importante Nel fronte cinese Nelle steppe Perché avremmo Grande capacità Di manovra Quindi mettiamo qui Più che in In Austria Che sicuramente O in Germania Sicuramente sarà un po' più complicato Magari anche Potrei anche fare un teatro Con la Persia E vedere di Vassalizzarla Magari Non lo so Ragazzi Voi che dite Me lo dite Decido io Per questa volta Direi che anche Un teatro Con la Eh però Non voglio Suddividere troppo Le mie truppe Allora così Ok Quindi abbiamo messe Magari mettiamo Quelle con l'orso Che sono le truppe Mie un po' più scarse Eccole qui Le mettiamo qui Contro la Persia Comunque ragazzi Le rinforzeremo Solo Solo per il momento Saranno un po' scarsette Ve lo prometto Le mettiamo invece Nell'altro Fronte Ok Direi che comunque Un po' di divisioni Irregolari Le mettiamo anche qui Come anche Bisogna metterne Qualcuna in Cina Perché Ok ragazzi Faccio vedere Come organizza Mai dire Il suo esercito Che abbiamo Sei divisioni Quindi rinforziamo Anche qua Qui forse Ce ne sono un po' poche Quindi Rinforzerei Anche quella zona Dodici divisioni La Cina Verrà prontamente Annientata Dall'esercito Russo Però sono davvero Tanti cinesi Avranno Chissà quante Truppe Noi ne stiamo Schierando Una ventina Quindi Spero di Non fare Un disastro Mettiamo un po' Di truppe Irregolari Anche in questa Zona Perfetto Allora direi Che Possiamo mettere Quello che rimane Nel fronte Ottomano E poi ci rimangono Un sacco Di divisioni Queste di Praticamente Che possiamo usare Per la polizia Queste Che ho lasciato Apposta Le possiamo usare Per proteggerci Un po' Dagli sbarchi Quindi Quante sono Sono 18 Quindi Invece Questa la chiamiamo Difesa Imperiale Con queste Invece Cerchiamo Un attimo Di metterci Al sicuro Nei porti Più importanti Tipo queste Perché ragazzi Non ci dovrebbero Essere Tanti sbarchi Nella prima guerra Mondiale Però Già sappiamo Che purtroppo La mod Ne fa avvenire Parecchi Invece Allora Questa zona Direi Forse questa No Ecco Uno lì Ma chissà No neanche lì Io non ammetterei Neanche lì Direi che Questa costa Va assolutamente Protetta La costa Del mar nero Se no Veniamo tagliati La crimea Questo Qui E qui Non abbiamo Poi così tanto Da proteggere E poi Sicuramente Vladivostok E questo Mettiamo Che deve Proteggere I porti Ne servono 17 Se lascio La linea Invece Ne servono 100 No Questo No Ok Direi che Così Può andare Ok ragazzi Abbiamo organizzato L'esercito Il mio rullo Compressore È un pochino Ristretto Perché Ho Messo Tante truppe Al confine Con la Cina Ovviamente Ragazzi Perché La guerra civile Cinese Avverrà Prima Della prima Guerra Mondiale Quindi Un po' Di truppe In questa Zona Possiamo Permettercele Adesso L'unica cosa Che voglio Fare Prima di Concludere L'episodio È Vedere Se C'è qualcosa Che ci garantisce Un attacco Alla Alla Persia Cazzo Questo è Vendicare Il 1453 C'è proprio La caduta Di Costantinopoli Attaccando L'impero Ottomano Qualcosa Qualcosa Che ci garantisce L'attacco Alla Persia Questo Fare l'alleanza Con il Giappone Io voglio Distruggere Giapponesi No Non c'è niente Ragazzi Che ci consenta Di attaccare I persiani Quindi Politics In Scandinavia Un po' Un po' Ristretto Lì In effetti L'albero Forse È anche Troppo Ampio Ragazzi Perché Molte cose Non riusciremo Neanche a Farle Mongolian Protettorato Boh Forse Quelle truppe Che ho messo In Persia Non verranno Utilizzate Tra l'altro C'è Ahmad Shakhakhar Come Comando Forse Queste truppe Le metteremo A confine Con l'impero Ottomano In effetti O le sposteremo In Romania La Persia Non è il momento Di attaccarla Ok Dai ragazzi Direi che Per questo episodio Molto introduttivo È tutto Ci vediamo Nel prossimo In cui cercherò Di Intanto qui Si stanno Riorganizzando Un po' Tutte le truppe Cercherò Di parlarvi Della situazione Russa Del perché Si trovava Era messo Così male Parleremo Un po' Dei comunisti Quindi ragazzi Ci sarà Di cui divertirsi Di cui Dibattere Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Namedira Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.